I Musei Vaticani dedicano un'audioguida ai bambini, il Family Tour, un'esperienza divertente e educativa pensata esclusivamente per i visitatori più piccoli, accompagnati dai loro genitori. Imparare divertendosi, le famiglie vivranno insieme un'esperienza di gioco e apprendimento. Una vincente caccia al tesoro, alla scoperta delle meravigliose opere dei Musei Vaticani. Con l'audioguida e la mappa, tra indovinelli e rivelazioni, fantasia e immaginazione, in compagnia di personaggi fantastici, i piccoli esploratori vivranno un'esperienza originale e indimenticabile. Family Tour, alla scoperta dei tesori nascosti dei Musei Vaticani.